Questo è uno dei tanti messaggi di morte di Minecraft, ed escrive esattamente quello che ti è successo. Punto da un cactus, danno da caduta, ha provato a nuotare nella lava... Ma sapevate che esiste un messaggio di morte iper raro, che si può ottenere soltanto se conosci questo segreto? Avremo bisogno infatti di un enderpearl, di un secchio d'acqua e di un muro gigante. Vi basterà tirare l'enderpearl contro il muro, piazzare l'acqua, per poi cadere e sfracellarvi per terra. In questo modo otterrete il messaggio più raro di Minecraft. Death, fell, accident, water.